Niente più scuola nei nidi e nelle materne per i bambini non in regola con la vaccinazione, mentre nella scuola dell'obbligo per i trasgressori della legge sono previste sanzioni pecuniarie dai 100 ai 500 euro. Il 10 marzo è scaduto il termine per la presentazione della documentazione in grado di comprovare l'avvenuta vaccinazione dei minori dai 0 ai 16 anni o della presentazione della certificazione della prenotazione in una ASL. Da lunedì 12 marzo tutti gli istituti scolastici d'Italia sono così tenuti a far applicare quanto previsto dalla legge in materia dell'obbligo della vaccinazione. I dirigenti scolastici da ieri stanno inserendo a sistema tramite SPID l'elenco di tutti quanti i ragazzi che frequentano le proprie scuole. Adesso toccherà al sistema Java, che è la piattaforma della Regione Puglia, effettuare i vari controlli e restituirci le situazioni anomale entro il 26 marzo. Di là in poi noi abbiamo un paio di settimane per richiamare i genitori virgolettato inadempienti e chiedere loro di porsi in regola, altrimenti ci sarà poi la comunicazione nuovamente alla Regione Puglia che effettuerà insomma quelli che sono le loro competenze, quindi gli adempimenti, i richiami, insomma le sanzioni in effetti amministrative. Per quanto riguarda nello specifico la situazione della scuola secondaria di primo grado Ettore Fieramosca di Barletta, i dati ufficiosi non sembrano essere poi così preoccupanti. Per quanto riguarda la nostra scuola su 850 alunni parliamo di unità, unità. però ripeto il dato è ufficioso, la situazione non è al momento diciamo allarmante per quanto ci riguarda.